Siete pronti? Siete caldi? Allora prima mettete mi piace e dopo continuiamo la campagna con Napoleno Total War Questo è il quarto capitolo intitolato una nuova conquista, non una nuova conquista amorosa Ma perché andiamo a conquistarci Napoli finalmente dopo un capitolo dove non mi sono mosso di una virgola Ma ho dovuto subire una ribellione orrenda da parte degli italiani stessi Quindi vedete che brutta cosa E vabbè adesso sto cercando di mandare un po' più di navi mercantili verso la base mercantile C'ho un'armata napoletana che è venuta un po' a rompere le palline attorno a Roma Ma mi ha distrutto anche un'università e io devo quindi andare a cacciarla via di grandena E siccome come ho detto prima ho avuto un po' di problemi a Roma come si è visto nel capitolo precedente Adesso devo cercare di risistemare un po' l'esercito per andare a fare il mio dovere Per adesso quindi sto raccogliendo tutte le truppe migliori per prepararmi alla battaglietta Alla fine è una battaglia molto facile perché io sono in estrema maggioranza numerica mentre il mio avversario ha pochissimo ometti I napoletani scappano via appena mio vicino Io adesso sono preoccupato perché se vado ad attaccarli Nello stesso turno non sarò in grado di tornare anche indietro E quindi per un turno Roma rimarrà sguarnita E ho paura che si ribelli un'altra volta però diciamo che non dovrebbe succedere Vado ad attaccare i napoletani La battaglia si vede che insomma è leggermente a mio favore Questo è quindi lo scontro vero e proprio Io avanzo tranquillamente e sciallamente L'intelligenza artificiale alla fine si dimostra in sto scontro ancora più pippa di quanto si è dimostrato negli scontri precedenti Avanzo con la mia cavalleria sul lato sinistro tanto per farmi il figo E metto anche le mie due unità di artiglieria sul lato Sempre sul lato sinistro per prepararmi a sparare Alla fine praticamente non lo userò quasi in sta battaglia l'artiglieria Anche perché oltre ad essere buggata è una battaglia vinta già in partenza Avanziamo un po' col tempo Tanto la battaglia è molto corta anche da raccontare Formo una specie qua che sta inquadrando un po' la natura Tanto per... Ah ho ucciso il generale nemico con un... Forse un colpo fortunato di artiglieria non mi ricordo più Comunque si l'ho ucciso e questo mi basta Formo una specie di U con tutte le mie unità di fanteria Qua con la cavalleria da dietro cerco di prendere le unità in fuga nemiche Insomma un po' la solita storia Il nemico mi carica io gli sparo cercando di prenderlo da più lati E con la cavalleria da dietro gli faccio un po' il popò E poi come ultima cosa vado a recuperare le unità in fuga In modo che il turno dopo non mi ritrovi un'altra volta la stessa armata a rompermi le scatole Qua a un certo punto siccome tutte le unità nemiche vanno in fuga Parto la carica e chi si è visto si è visto e la battaglia finisce così Quindi una volta riuscito a liberare un po' la regione attorno a Roma Devo cercare di ripreparare un'altra volta l'esercito per scendere verso Napoli Che non è neanche distantissimo per cui non è che mi ci vorrà molto 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 tempo Qua vabbè faccio le solite mie cavolate Cerco di rientrare a Roma il più velocemente possibile Perché sono sempre preoccupatissimo che non mi si ribelli un'altra volta Io odio le ribellioni mannaggia quando mi succedono E purtroppo su Napoli e su Total War succedono anche troppo spesso Alla fine cerco sempre di migliorare, di sistemare l'economia come meglio posso Qua come si vede faccio rientrare la mia armata a Roma E lascio, beh a parte che recluto qualche nuova unità Recluto un'altra nave mercantile per continuare a guadagnare soldi con la base mercantile Infatti secondo me questa è una delle cose importantissime Perché la base mercantile è una di quelle risorse che ti dà più denaro in assoluto Oltre anche agli accordi commerciali e tutto Però ci sta, ci sta assolutamente tenersi una propria base mercantile per sé Più se ne ha meglio è, non ci mancherebbe altro A questo punto scendo con tutto il mio esercito verso Napoli Sta battaglia non ve la faccio neanche vedere, la risolvono automaticamente Perché alla fine a Napoli c'erano molte unità di guardia cittadina Non ricordo come si chiama, di guardia cittadina, di cittadini armati Quindi c'è unità veramente neanche di milizia base Che si vanno in fuga facilmente Quindi la risolviamo automaticamente Che se è visto, se è visto Intanto un'altra armata napoletana mi era salita verso Roma Non se neanche vista Però conquistando la capitale Napoli diventa italiana E quindi non devo più fronteggiare nessun altro esercito napoletano Il problema però è lo stesso che si è verificato a Roma Ossia adesso la città è incazzata nera con me Io ovviamente elimino le tasse, la detasso completamente Però questo non basta per riuscire a evitare una futura ribellione Quindi io devo preparare il mio esercito E reclutarlo il più velocemente Cioè reclutarlo, sistemarlo il più velocemente possibile Affinché possa fronteggiare un'altra ondata di ribelli italiani Che purtroppo è una cosa che succede sempre Soprattutto ha difficoltà alta e molto alta Qua su Napoleon Total War Appena conquisti una città Ti si ribella subito e ti spacca i coglioni Alla fine io non è che ho fatto tantissime campagne Quindi non sono molto esperto Se qualcuno magari ha avuto esperienze diverse da me Me lo faccio sapere Che così so anch'io come fronteggiare queste cose Qua con i ministri cerco sempre di trovare qualche ministro migliore Perché mi aiuti insomma a sistemare l'economia eccetera E è difficile, non è facile trovare qualcuno di buono È molto improbabile Però se ci riesci Ci sta sempre, ci sta sempre Ora bene, adesso in questa parte della campagna io cerco di continuare a sistemare l'economia Questa è una cosa che continuo a fare sempre E per sistemare l'economia non intendo solo mandare navi mercantili nella base mercantile Oppure migliorare i ministri ma cercare nuovi contratti commerciali Non so neanche io come chiamarli Oppure migliorare gli edifici Che costano un botto Alla fine più si va avanti più costano Quindi non ce la faccio neanch'io a costruirli E sistemare oppure gli edifici italizzati Come per esempio l'università Che è una cosa che devo fare assolutamente E qua guardate chi c'è Ciao bellissimi casi ribelli italiani E una gioia a rivederli un'altra volta Mannaggia a loro Cerco di reclutare qualche unità in più al nord In modo che mi possano difendere da eventuali incursioni nemiche Cosa che mi fa una paura orrenda E qua passo il turno aspettandomi una bella festa da parte dei ribelli Io comunque sia Non li ho attaccati Ma sono rimasti in città Non tanto per farmi il figo Ma perché così posso usufruire Delle protezioni Ossia delle trincee Sia per l'affanteria che per gli cannoni E questa praticamente è Una battaglia gemella Quella che ho fatto vedere Nel capitolo precedente Ossia io sto camperando come ho mai camperato in vita mia E aspetto gli italiani avanzare Qua si vede che c'è tipo tutta la cavalleria nemica Io ho due unità di cannoni Due unità di artiglieria Quelle quali sparo adosso a queste unità di cavalleria nemica Che si stanno spostando sciallamente lentamente E purtroppo riesco a fare un colpo fortunato Col quale uccido il generale nemico E questa è una forse una delle cose fondamentali Per lo sviluppo di questa battaglia Perché uscire dal generale Sin dall'inizio dello scontro Ha un bonus morale Anzi il nemico ha un malus di morale notevole E quindi riesco a vincere ancora più facilmente la battaglia L'aver vinto è lo stesso Perché alla fine era tutto mega protetto Camperone eccetera Quindi non si può non vincere una battaglia del genere Al solito mando la cavalleria sulla destra Per attaccare da dietro l'artiglieria nemica Arriva la cavalleria nemica Ad attaccare le mie unità di infanteria Io faccio i quadrati e vinco di gran lunga Al solito qua in basso c'è la zona rossa Davanti all'artiglieria nemica Perché sono tipo delle specie di mine Che schioppano appena passano i nemici Delle cariche di esplosivo Non so che cavolo sono E qua mando un po' avanti Perché alla fine è una battaglia abbastanza noiosa Cioè piuttosto rivedetevi il capitolo precedente È la stessa cosa Con la mia cavalleria faccio piazza pulita Delle artiglierie nemica E basta Cioè una cosa abbastanza tranquilla A fine battaglia al solito vado In cerca delle unità in fuga Le prende un po' tutte Quindi l'armata nemica A fine battaglia diventa Veramente malconcia E quindi Non è un problema per me Riuscire ad andare a prendere Una volta dopo I ribelli ancora vivi Queste sono le statistiche finali Si vede che i ribelli ancora vivi Vanno in fuga Qua arriva anche La seconda armata di ribelli E il turno successivo Come si vede Io prendo tutto il mio bellissimo esercito E lo mando a schiantarci addosso Agli ultimi ribelli superstiti Della battaglia che avete visto precedentemente Sono veramente i quattro gatti Per cui è una barzelletta Vincere questa battaglia La risolvo automaticamente E a questo punto Non si vede l'altra armata ribelle Quella che si era avvicinata a Napoli Perché deve essere nascosta Qua torno ai boschetti Vicino alla città Non riesco mica a trovarla Ho paura di subire un Un attentato Cioè di subire un agguato nemico Per cui ritorno in città E aspetto che siano loro a fare la prima mossa Si vede che si avvicina ancora La nave mercantile La base mercantile E qua finalmente mi attaccano Mi attacca l'ultima L'ultima armata ribelle Io sta battaglia la risolvo Anche automaticamente Perché è una vittoria abbastanza scialla E anche per non far durare troppo Sto capitolo E basta Cioè alla fine Il capitolo più o meno finisce qui Perché Mi rimane solo da Distruggere questi ultimi Ribelli italiani nemici E dopo Posso Sistemare un attimo La provincia di Napoli E poi scendere ultimamente Fino a Prenderla a Sicilia In ogni caso ragazzi Io vi ringrazio di tutto Il capitolo finisce qua E ci vediamo Prossimamente Con la conquista Della Sicilia E poi chissà Poi magari andiamo anche in Sardegna Ciao bellissime Signore Signore Ciao